Sono davvero molto molto piacevolmente sorpresa. Ora mia madre appunto ha fatto il corso l'ultima volta, il mese scorso, e in realtà mi ci ha iscritto senza effettivamente consultarmi, no? Mi disse, no, ho trovato questo corso, era un periodo in cui non sta benissimo, si butta tanto sulle cose, è tanto impulsiva, io lo sono a mia volta, e mi preoccupa un po' questa cosa. E quindi in realtà quando lei mi chiamò e mi disse, comunque alla fine ti hai iscritto, ho saputo solo dopo quanto aveva pagato, quindi comunque sapevo che mi aveva fatto un grande regalo e tutto quanto, e la cosa mi aveva messo un peso dentro della serie. Ma ne varrà qualcosa, sarà una cavolata, ora mi devo anche mettere io, cioè non solo se li mette lei a farlo, ma oltretutto lo devo fare pure io, non le posso nemmeno dire no, ma in realtà non c'avevo voglia. Insomma, tutta una serie di cose, poi in realtà non mi reputo una persona più di tanto scettica, anzi tutte le discorse che hai fatto sul fatto di sentirsi leggeri, di lasciarsi andare, mi hanno sempre risuonato. La cosa che, a parte che mi ha fatto tanto piacere, è che mi ha fatto rendere conto che mi posso fidare di mia mamma, cioè non che prima dicessi di no, però in queste cose che per me ora come ora sono un po' dubbiosa, mi ha dato tanto. E poi soprattutto di, cioè io sono consapevole comunque delle mie capacità, ma una cosa per esempio che a me torna ancora forse difficile e dovrò migliorare è se io penso a quante persone sono migliori di me e riescono meglio in qualcosa, io mi sento automaticamente meno. E quindi dico che ci provo a fare, tanto c'è già qualcuno che lo fa bene, io sicuramente al loro livello non ci arrivo e quindi gioco trattenendomi, no, come senza effettivamente dire do tutto quello che potrei, no, sto un po' tenuta. E invece, e invece è bello, bello, sono contenta e soprattutto ora io con l'università, vabbè, ho iniziato ora il primo anno da fuoricorso e mi sono iscritta dopo quattro anni che ho finito il liceo, ho fatto le mie esperienze all'estero, tutte bellissime. E però poi quando sono arrivata all'università con ragazzi più piccoli di me, avendo anche un po', non ti dico la mania del perfezionismo, ma io se non mi ricordo anche la minima cosa mi sento come se non sapessi nulla, proprio assolutamente niente. Quindi all'inizio mi ritiravo dagli esami perché magari non riuscivo a fare il paragrafino, eccetera, e mi mancano ora otto esami, in quattro anni sono riuscita a darne quattordici, ho preso solo trenta e trenta è lode, ma ora ho proprio la voglia di dire lo faccio perché non importa che io sia maniaca di sapere tutto, di fare il riassunto con la cosina, con la parentesi, perché posso avere effettivamente tutto qui e posso avere la sicurezza di non scordarmi niente quando mi trovo davanti a qualcuno e ci devo parlare e questo è un grande tesoro, davvero un grande tesoro.